Salve a tutti e benvenuti al primissimo episodio di StarCustom, la rubrica dove ci occupiamo di mappe personalizzate, mod e quant'altro per StarCraft 2. Ho pensato che non c'era modo migliore di cominciare questa rubrica se non appunto il dare un'occhiata alla beta della patch 1.5. Probabilmente molti di voi si sono accorti che nella sinistra, durante il login su Battle.net c'era questo avviso che dice che la patch 1.5 è in arrivo e che la beta era appunto aperta al pubblico. E ho deciso, beh, perché non darci un'occhiata? Sembra il modo migliore appunto per cominciare questa rubrica. In cosa consiste questa patch? Fondamentalmente si tratta di un rifacimento della interfaccia di Battle.net 2.0, che finora non è stato, diciamolo, il Battle.net migliore che abbiamo avuto. Io ricordo che il Battle.net 1.0 era davvero qualcosa di meraviglioso, c'era pure integrato all'interno dell'interfaccia stessa un sistema per i clan, la gestione dei clan, la creazione dei clan. Comunque qua siamo nella home page, possiamo vedere immediatamente, hanno cambiato un po' tutto, non c'è più la parte qua sotto dei messaggi da parte dei propri amici. Sinceramente non mi manca perché le persone che ho nella mia lista di amici non lasciano mai molti messaggi, o se li lasciano sono più che altro insulti per altri ragazzi che hanno sulla loro lista degli amici. Le news sono sempre le stesse, news riguardo gli e-sport molto interessanti, molto importanti, cliccandoci sopra ci aprirebbe un browser, una finestra del nostro browser che ci fa leggere queste belle notizie. Ma una nuova aggiunzione che voglio fare notare, o meglio una modifica che è stata portata e che era veramente, veramente importante, di cui finora si è sentita la mancanza in Battle.net 2.0, era la chat. È stata veramente migliorata in questo caso, infatti possiamo vedere se apriamo i canali di chat, non ci sono più mille canali inutili. Sinceramente c'erano tanti canali inutili, tipo Strategie Terran, Protoss, io non ho mai trovato nessuno in quei canali, ma in ogni caso possiamo vedere, io ho già subito aggiunto il canale Vasacast, perché è il canale dove stanno i veri campioni. Possiamo vedere immediatamente, infatti la chat si apre in una bella finestra grande, finalmente non è più solamente un angolino in basso nel nostro schermo, possiamo anche ridimensionare la finestra, possiamo portarla dove vogliamo. Purtroppo non si può mettere a schermo intero, non so bene perché, possiamo solo metterla, ecco questa è la dimensione massima che possiamo raggiungere. Facciamo un piccolo test, eccoci qua. In ogni caso questa è la nuova chat, finalmente una chat facile da usare e che racchiude in sé, diciamo, quello che deve essere una chat, ovvero una grande finestra dove poter chattare con la gente. Possiamo vedere che c'è un bel po' di gente qua nella chat generale, che sta provando la beta. Comunque, questa è la chat, la scremata agli amici è sempre la stessa, ora c'è solo uno sfondo un po' più, diciamo, come dire, uno sfondo un po' più graficamente visibile, esteticamente visibile. C'è pure il Marine di Jim Raynor, che è gli stessi Marine, insomma, c'è la tuta di Jim Raynor qua sullo sfondo, perché Jim Raynor è un figo e a noi piace vedere la sua tuta. Comunque, possiamo vedere le altre modifiche, qua la parte del profilo è sempre identica, non cambia molto, c'è il profilo, le partite giocate questa stagione, ancora io non ho fatto nulla su questa beta, quindi non vediamo nulla, non ho né 1v1, né squadre, né 2v2, né 3v3, né niente, non ho ancora giocato la campagna nella beta. Poi possiamo vedere, appunto, altre cose, sono sempre lì, sono sempre le stesse, lo storico delle partite, questo è qualcosa a cui avremo preso, sono le recensioni che abbiamo lasciato per le mappe personalizzate, ci arriveremo dopo. Gli achievement, che sarebbero le imprese e il resto, insomma, il profilo rimane sempre più o meno lo stesso. Leghe e ladder non cambia nemmeno molto, è solo un po' di grafica cambiata, posso vedere i bottoni qui sulla sinistra sono cambiati, ma sono rimasti gli stessi, hanno solo aggiunto la cosa di Grandmaster, dove possiamo vedere tutti i Grandmaster, eccola qui. Torniamo indietro, la funzione dei replay purtroppo non è cambiata, quindi ancora salvare e sistemare i replay, diverse cartelle rimane un po' fastidioso, un po' difficile da fare, ma questo spero che prima o poi la Blizzard si renda conto che c'è bisogno di un sistema all'interno del gioco stesso, dove possiamo semplicemente magari prendere un replay e trascinarlo verso dove vogliamo salvarlo, ma ancora non c'è, per fare tutto questo dobbiamo andare nella nostra cartella su Windows e farlo da lì. In ogni caso possiamo vedere che qua sopra hanno cambiato il layout, non abbiamo più single player e multiplayer, ma abbiamo StarCraft, dove troviamo tutto ciò che riguarda StarCraft 2 per quanto riguarda quello fatto dalla Blizzard, infatti c'è la campagna, possiamo vedere qua c'è la bella faccia di Jimmy che è arrabbiato con noi perché non abbiamo ancora giocato la campagna e quindi non abbiamo salvato la sua fidanzata. Abbiamo le sfide, le sfide sono sempre le stesse, non ci sono sfide nuove, questo non è un upgrade, non è un update più che un upgrade, non è un update che porta nuovi contenuti, ma è un update che cambia fondamentalmente il layout di Battle.net. Le schermaglie contro l'intelligenza artificiale, ci sono tutte le mappe della Blizzard, poi i scontri cooperativi, insomma questo va da sé, possiamo vedere qua ci sono delle iconcine nuove, tutte ficose per le razze, possiamo vedere adesso lo Zerg ha questa unità che non so che cosa sia, il Terran ha un fantasma, il Protoss ha un Arconte o un alto templario o comunque qualcosa, il random ha i pianeti come al solito, lo Zerg ha un'unità che non è neanche nel gioco, almeno credo che non lo sia, non so davvero cos'è ma è un insetto schifoso, ma a me piace perché è Zerg, possiamo scegliere sempre la difficoltà, eccetera, eccetera. Quick Match che è la nuova ladder, possiamo vedere che adesso per andare in una partita veloce basta cliccare qui e possiamo scegliere la nostra razza, andare su lo stile che vogliamo tutti contro tutti, 1v1, 2v2, eccetera, eccetera. Ci sono ovviamente i match di piazzamento da giocare perché come ho detto ancora non ho giocato su questa beta e poi abbiamo i Custom Games che comunque possiamo creare lo stesso, ora non ho detto questo ma la Blizzard ha annunciato che implementerà una ladder non ranked, quindi dove non ci sono punti, dove non si sale o scende, ma è semplicemente una ladder amichevole dove automaticamente il gioco cercherà per noi un avversario del nostro stesso livello, quindi basterà mettere la propria razza a cercare 1v1 non ranked e ci porterà, ci troverà direttamente un avversario del nostro stesso livello nella map pool della ladder stessa, quindi nelle mappe della ladder comunque, e potremmo andare lì ad allenarci in amichevole senza dover creare una partita, ma se vogliamo comunque creare una partita per giocare contro un amico o provare delle cose su una mappa specifica possiamo sempre farlo, perché se non fossimo in grado di farlo sarebbe una gran pecca anche quella, possiamo vedere infatti ci sono tutte le mappe della Blizzard dove possiamo provare tutte le nostre tattiche, possiamo ovviamente sia creare il gioco che entrare in una partita già fatta e questa è per la sezione StarCraft, c'è sempre la parte Custom Games, no l'ho già detto, niente scherzavo e questa è per la parte StarCraft. Ora se andiamo alla parte Arcade, che è l'obiettivo principale di questa patch e appunto dare più visibilità alle mappe custom e ai mod, vediamo che immediatamente siamo accolti da un elenco di mappe che sono le più giocate della settimana, in questo caso Minerals Evolution è la mappa più giocata della settimana poi Element Tower Defense, il mio inglese oggi fa schifo. In ogni caso possiamo anche vedere, qui sembra quasi un App Store vediamo le mappe custom con il loro rating a 5 stelle, da 0 a 5 stelle, se clicchiamo su una di queste mappe vediamo subito un piccolo riassunto, una piccola descrizione di quella che è la mappa e qui possiamo dare il nostro voto possiamo anche trovare un piccolo tab con delle istruzioni, qua ci sono anche dei bellissimi screenshot che ci dimostrano quello che ci possiamo aspettare dalla mappa, possiamo anche cliccarci per farli allargare e vederli poi in maniera più dettagliata. Queste sono le istruzioni per giocare, proprio questa mappa non ci dà moltissime istruzioni, le patch notes ovviamente va da sé, sono i cambiamenti che sono stati effettuati dal creatore che è in questo caso Devourer di questa mappa e la parte che secondo me è più importante sono le recensioni da parte degli utenti, infatti possiamo vedere che per ogni mappa personalizzata gli utenti possono lasciare intanto ovviamente il rating come abbiamo visto inoltre delle recensioni che noi possiamo sistemare in ordine di più, quella più d'aiuto oppure quella più favorevole quindi quella che dà il rating migliore oppure la più critica, quella che dà magari le, esatto, le, trova i bug appunto da dei giudizi un po' più duri oppure semplicemente per in ordine di tempo, in ordine cronologico di quando sono arrivate se torniamo di nuovo su arcade possiamo vedere queste sono quelle sullo spotlight ovvero quelle che la blizzard dice che sono appunto le più giocate della settimana, le più votate della settimana ma possiamo semplicemente andare su sfoglie e cercarcele per i fatti nostri, possiamo scegliere il genere per esempio se noi in questo caso siamo messi a tutti i generi ma se volessimo una mappa che è per esempio un puzzle andiamo su puzzle, non ci sono mappe quindi andiamo su tower defense che ce n'è sempre perché i tower defense sono sempre popolari li troviamo qui per esempio c'è nuclear defense, ci possiamo cliccare a vedere sempre la descrizione come fare a giocare, qua ci sono delle istruzioni un po' più dettagliate, le patch notes e le recensioni dei giocatori per esempio questo ragazzo che si chiama puffball dice che è molto divertente e molto difficile provatelo perché se non l'avete provato prima provatelo, quindi ci consiglia, gli da anche 5 stelline insomma sembra proprio essere una mappa da provare, poi possiamo anche mettere di nuovo tutti i generi tornare indietro e mettere le più giocate, le più votate, quelle che sono più recenti diciamo quelle che stanno diventando i nuovi top e ovviamente semplicemente in ordine cronologico quelle che sono state caricate alla fine, poi c'è anche un'altra funzione, quella è gli open games adesso andiamo su tutti i generi, vediamo che ci sono alcune partite che sono già in corso quindi se non volete aspettare in una lobby per una partita che cominci potete semplicemente andare qui su open games cliccare su una di queste che sono partite che già sono in corso, che comunque hanno già delle lobby con delle persone dentro e andare qui e unirvi direttamente a una partita fan or not è quello che per adesso abbiamo chiamato in italiano top and flop diciamo cliccando play in questa finestra ci porterà automaticamente a una mappa a caso così che noi possiamo provarle e poi lasciare una recensione e dei voti ovviamente poi ci sono i nostri preferiti, i nostri segni libri e quelle che abbiamo giocato di recente ci sono anche delle finestre di chat per l'arcade, infatti vediamo ci sono diverse persone che stanno provando mappe personalizzate nell'arcade sì fondamentalmente questo, si tratta di questo, questa è la versione arcade della 1.5 che in questo momento è nella beta sono molto contento di vedere che la Blizzard come ho già detto sta dando attenzione ai map maker e alle mappe personalizzate ce ne sono alcune veramente interessanti, infatti nei prossimi episodi di Star Custom andremo ad analizzare alcune di queste mappe per esempio ne avevo vista una che volevo farvi vedere, se andiamo per esempio credo fosse su RPG ci dovrebbe essere, eccola qua, Diablo, è l'intero gioco di Diablo 1 fatto col motore grafico di StarCraft 2, è una cosa veramente incredibile io ho giocato un pochino di questa mappa con un altro account qualche giorno fa ed è fatto veramente bene ci sono tantissime memorie, i suoni sono quelli di Diablo 1, l'inventario è quello di Diablo 1, le quest, le voci è tutto di Diablo 1, funziona perfettamente, non so come abbiano fatto, è l'intero gioco di Diablo 1 qui su StarCraft 2 è una cosa incredibile, possiamo anche vedere infatti tutte queste cose insomma, questi per futuri episodi di Star Custom potremmo appunto vedere altre mappe personalizzate spero che abbiate trovato questo video utile, spero di non essermi scordato nulla di questa cosa qua abbiamo anche un pulsante per una navigazione veloce per andare dove vogliamo andare insomma, questa è la beta della patch 1.5, spero abbiate trovato questo video informativo o utile o quantomeno che, insomma, l'abbiate visto così potete prendermi in giro se mi sono dimenticato qualcosa se comunque sto solo facendo il cretino davanti al computer come al solito in ogni caso, io vi ringrazio per la cortesa attenzione, non ho altro da dire ci vedremo al prossimo episodio di Star Custom, io sono Sangler, alla prossima